Marco Petrone, si ritorna per te a un ritorno in Serie D? Eh beh sì, dopo quattro anni di eccellenza ritorno in Serie D con buoni propositi e soprattutto sono fiero di farla e di affrontarla in questa squadra, in questa società, in questa realtà. Spero di fare personalmente un buon campionato ma soprattutto di squadra, speriamo di salvarci il più presto possibile e di fare un buonissimo campionato e di far rimanere questa squadra, questa fantastica società nella categoria. E' questa fantastica società di cui tu fai parte che sta veramente dimostrando grande organizzazione nell'allestimento della squadra ma proprio per come va avanti il lavoro già da diversi anni. Eh sì, infatti c'è stato un processo di crescita negli ultimi anni che ha portato questa società nel campionato nazionale di Serie D e a livello organizzativo ha anche migliorato tantissimo, anno per anno. Non ci sono stati peggioramenti, è stata allestita una grandissima società, un bellissimo organigramma e anche una buonissima squadra, quindi può affrontare al meglio questa categoria. Qual è il fiore all'occhiello, secondo te, di questa società? Eh beh, ovviamente come ho detto prima, soprattutto diciamo l'organizzazione di questa squadra, lo staff tecnico a partire dal mister, il predatore atletico, la società stessa, dalla squadra che è stata allestita, diciamo, insieme al direttore sportivo Marinucci Palermo. E vabbè, adesso non ci resta che affrontare al meglio questo ritiro e iniziare al meglio il nostro campionato.